Siamo arrivati all'appuntamento all'interno del Fit in the Morning con la nostra ovviamente risveglio muscolare e il preparatore atletico Pierluigi De Pascalis, buongiorno. Buongiorno e ben ritrovato a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno. Ovviamente siamo, Pier, oramai in pieno inverno, diciamolo, e siamo proprio a parlare di allenamento, no? Come avere quella spinta anche in inverno per fare attività fisica. Esatto, perché in questo periodo cosa succede? Già da qualche tempo in realtà, che le giornate sono più corte, fa buio prima, fa freddo, quindi lo stimolo ad andare in palestra non è particolarmente elevato. Molto probabilmente alla fine di una giornata lavorativa avremo molto più voglia di andarci a buttare sotto il getto bollente della doccia in casa e poi magari metterci a polterire sul divano. Occorre quindi trovare qualche stimolo nuovo, vediamo come fare per superare questa fase dell'anno, che poi ad alcuni piace, io sono tra quelli che per esempio chiamano l'inverno, però capisco anche che molta parte delle persone certamente subisce un'influenza differente. Allora dobbiamo magari trovare nuovi stimoli. Trovare nuovi stimoli significa anche cambiare attività, perché se noi facciamo in maniera ripetitiva sempre le stesse cose, chiaramente in questa fase in cui la motivazione viene un po' meno, a maggior ragione siamo tentati di abbandonare. Quindi cerchiamo, ripeto, nuovi stimoli. Sfruttiamo, è una cosa che in realtà mi dispiace un po' dirla, però possiamo sfruttare anche i sensi di colpa. In che senso? In questa fase dell'anno ci saranno sicuramente dei giorni in cui salteremo gli allenamenti perché ci sono degli eventi festivi, perché occorre andare in giro magari a cercare dei regali, poi magari ne parleremo anche. Ci invitano a mangiare fuori, quindi ci sono anche più occasioni conviviali e di conseguenza non soltanto rischiamo di saltare gli allenamenti, ma dall'altra parte abbiamo anche un surplus calorico. Ecco, sfruttiamo magari anche questi sensi di colpa per cercare di essere più assidui e quindi di allenarci anche nei giorni in cui non abbiamo voglia. E a proposito di condizioni alimentari, mi raccomando, perché noi poi spesso diciamo, sì ma vorrei fare un'alimentazione più salvere in questo periodo dell'anno, malgrado tutto, malgrado tutto. Beh, bisognerebbe anche poi vedere fin dove questi obiettivi hanno in qualche modo un corrispettivo dall'altra parte. Cioè se apriamo il nostro frigo, realmente abbiamo questo tipo di alimenti all'interno? Perché anche questo è un fattore importante, perché magari siamo un po' depressi anche a causa, ripeto, della minore presenza di luce e la quantità di luce incide significativamente sul nostro umore ed è un attimo non soltanto poi saltare l'allenamento, ma anche aprire il frigo e trovarci dentro qualcosa che va a compensare il nostro stato di umore. Altra cosa importante è quella di preparare tutto quanto fin dal mattino, quindi non cerchiamo di uscire di casa, già magari col borsone in auto, comunque prepariamo tutto quanto evitando la permanenza in casa al ritorno di una giornata al lavoro o per chi magari va ancora a scuola, al ritorno di una giornata dopo una pesante giornata a scuola, perché magari siamo più attratti in quel caso all'idea di rimanere a casa. Quindi fissiamo bene l'obiettivo e non cerchiamo di trovare sempre degli ostacoli ovunque. Come diceva Henry Ford, gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo quando distogliamo lo sguardo dal nostro obiettivo. Quindi ben focalizzati sull'obiettivo e supereremo anche questa invernata. Grazie ovviamente al nostro Pierluigi De Pascalis al prossimo appuntamento, un abbraccio. Un abbraccio, alla prossima. Un abbraccio, alla prossima.